Hey, mo' ciao youtubini! Benvenuti ad un nuovissimo video di Gaetano Donati! Se non lo fai ancora, seguimi ora sul mio profilo Instagram, gaetano.donati, dove potrai scoprire tutto il mio mondo. Ed inoltre, seguimi qui su YouTube e iscriviti al mio canale e sarai sempre aggiornato sulle ultime news! Allora, youtubini, oggi parliamo di una persona a cui noi piace davvero tanto. Non so se a cui noi si può dire, perché questa sera sto registrando il video di notte e quindi sono un po' confuso e anche un po' stanco. Ma naturalmente mi sto appicando solo per voi, youtubini. Comunque, dicevamo, oggi parleremo di un'ex GFina che noi amiamo tantissimo. Di chi sto parlando? Ma certo che lei! Sto parlando dell'ex Ado Delvesco, ovvero Rosalinda Cannavò. Ehi, youtubini, noi sappiamo, Rosalinda Cannavò ci sta davvero molto, ma molto a cuore. E di cosa parliamo? Ma di una news davvero recentissima. Allora, prima di parlare di questa news di Rosalinda Cannavò, scusate, sono veramente molto stanco, di Rosalinda Cannavò, voglio anticiparvi che ho davvero tanti ma tanti news riguardanti lei, Rosalinda Cannavò, quindi preparatevi e oltre a questo video, se scrollate nel mio profilo YouTube, quindi iscrivetevi al mio profilo YouTube, potete vedere altri video di Rosalinda, aggiornatissimi. Quindi non so se lo vedete stesso oggi o se li pubblico tutti insieme oppure dopo qualche giorno, però in ogni caso, se non lo trovate ancora, iscrivetevi al mio canale così sarete aggiornati. Allora, di cosa parliamo? Vado alle ciance e ciancio alle bade, come dico sempre io. Allora, Rosalinda Cannavò, come già sappiamo, come già avevo anticipato in qualche video passato, a brevissima, cioè venerdì, se non erro, adesso leggiamo l'articolo, parteciperà a tali e quali show, quindi il programma di Rai 1. Allora, andiamo a leggere l'articolo e scopriamo più dettagli. Allora, innanzitutto, la fonte, come sempre, vi indico sempre la fonte delle mie news, la fonte è TAG24, questo qui, non so se si vede, ecco qui, quindi non lo sto dicendo io, ma lo sto dicendo TAG24, quindi sto semplicemente leggendo l'articolo. Allora, vediamo cosa dice. Tali e quali show, Rosalinda Cannavò, intervista a TAG24. La mia storia ha aiutato qualcuno ed è la mia soddisfazione più grande. Rosalinda Cannavò ha tale e quali show per una nuova sfida. L'ex zie GFina, amatissima dal pubblico dei giovanissimi, è una delle concorrenti più attese della nuova edizione presentata quest'oggi da Carlo Conti. Rosalinda Cannavò, dopo aver mostrato alcuni degli aspetti più intimi della sua vita in una lunga intervista a Verissimo, è pronta dunque a salire sul palco di Italia e quali show. Noi di TAG24 l'abbiamo intervistata e ci ha confessato che sta impazzendo dall'emozione per quello che succederà a partire dal prossimo 30 settembre. Quindi, come vi avevo anticipato prima, sì, il 30 settembre ci sarà appunto la primissima puntata della nuova stagione di TAG24, dove ci sarà Rosalinda Cannavò. Mi raccomando, dobbiamo tutti seguirla e fare il tifo per lei. Continuiamo a leggere le news. Rosalinda Cannavò, che emozione è essere a TAG24? L'emozione è tantissima, infinita, soprattutto perché non c'è stata la prima puntata. Faremo dalla voglia di stare su quel palco. Le lezioni sono già iniziate, sto mettendo tanto impegno e speriamo di far bene. Che rapporti avevi con il mondo del canto? Ti piace cantare? Il canto è sempre stata una mia passione, che non ho mai coltivato in realtà, ma soltanto come mera passione in casa. Non l'ho mai approfondita, ma solo dentro casa mia. Questa sarà la prima volta che canto in pubblico, speriamo bene. A tali e quali show non dovete soltanto cantare, ma anche imitare il personaggio dal punto di vista fisico nelle esibizioni. Quali degli aspetti ti spaventa di più? Secondo me, dal punto di vista della voce, proprio perché non sono una cantante professionista. A livello attoriale, magari avendo un bagaglio alle spalle e degli studi, sarà più facile. La voce sarà più difficile, bisognerà impegnarsi. C'è una cantante che sogno di imitare? Sono tante le cantanti che sogno di imitare. Mi piacerebbe imitare Elodie, anche se non so se sarei in grado. Si muove molto, quindi è tosta. Coniugare canto e ballo con l'imitazione è dura, ma io amo le sfide. Spesso a tali e quali show arrivano degli ex concorrenti del grande fratello. Cosa ti porta dentro quell'esperienza? Nella mia edizione non ce ne sono come concorrenti. In realtà anche quest'anno c'è Valeria Marini. Della scorsa edizione mi sono piaciuti molto Pierpaolo Petelli e Stefano Orlando. Della mia esperienza mi porto tantissimo. È stata un'esperienza che mi ha fatto crescere tanto e la porterò nel cuore. Nell'ultima intervista a Verissimo ti sei aperta moltissimo. Quanto è stato difficile per te raccontare quello che avevi dentro. All'inizio mi è costato molto lanciarmi e aprire il mio cuore a tantissime persone. Poi vedendo che tantissime persone si sono rispecchiate anche in piccole parti, ho aiutato qualcuno e quella è la soddisfazione più grande. Per cui lo rifarei altre mille volte. Rosalinda Cannavoa, tali e quali show, tutto sulla concorrente. Fidanzata di Andrea Zenga, libro e malattia. Rosalinda Cannavoa arriva a tali e quali show come una delle favorite poiché può cantare su un ampio fan social network. Può contare su un ampio fan sui social network. La sua popolarità è cresciuta molto anche grazie alla storia con il fidanzato Andrea Zenka che è sbocciato proprio all'interno della casa del grande fratello. I due sono andati a convivere a Milano e il loro amore va a gonfio e vele. Ma ora dovranno affrontare la lontananza poiché Rosalinda Cannavoa ha deciso di trasferirsi a Roma dove si registrano le puntate di tali e quali show per affrontare al meglio la sfida. Andrea Zenga le ha fatta una romantica dedica sui social ed è pronto a fare il tifo per lei. Nel frattempo, nell'ultima puntata di Verissimo, l'attrice si era raccontata a cuore aperto presentando il suo libro Il riflesso di me, come imparato ad amarmi dopo l'anoressia in cui racconta il dramma della malattia che l'aveva colpita quando era ancora nota come adua del vesco sotto il cui pseudonimo aveva recitato l'onore e il rispetto Ora quella persona non esiste più, ero arrivata a pesare 32 kg. Ma questa è un'altra storia e quindi, cari youtubini, continuate a seguirmi e... Un bacio a tutti dal vostro Gaetano Donati! Mi raccomando, il 30 settembre è tutti a vedere tali e quali show e commentatemi! Grazie! 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 Grazie!